Interpoma 2014, siamo al termine della seconda giornata di questa manifestazione internazionale dedicata alla Mela. È l'occasione per fare il punto di come è andata, anche con Filippo Tagliani che è il presidente del consorzio Modì Europa. Ecco, un tuo giudizio su queste prime due giornate? È stata sicuramente un'edizione molto interessante. È stata l'occasione per incontrare anche tutti i nostri partner internazionali che fanno parte del progetto Modì attorno al mondo e per scambiarci informazioni riguardo al mercato, il marketing, piuttosto che le varie aspettative per il futuro. Siamo moderatamente contenti e fiduciosi soprattutto in una ripresa del mercato dopo dicembre interessante e importante. Ti farei un'altra domanda sul tema dello sviluppo dei mercati per quanto riguarda Modì. Quali sono i mercati a cui state guardando? Quelli che ritieni siano i più dinamici? Sicuramente l'Europa e in particolare la Germania è sempre il nostro mercato di riferimento che sta rispondendo secondo le aspettative. Quest'anno la Russia, come sapete, non riceve e quindi stiamo guardando sempre con maggior interesse al Medio Oriente, al Nord Africa e anche al Far East ci dà delle buone aspettative. Grazie per queste informazioni e di questo giudizio e di questa seconda giornata di Interpoma. Da Agronotizia e da Cristiano Spadoni è tutto.